Ho il piacere di salutarvi brevemente, prima di dare il via alla cena sono rimasto veramente colpito dal vedere una struttura così ben tenuta e delle persone come siete voi, attente, pulite, rispettose del posto in cui alloggiate e anche questo spirito di fraternità che vi fa essere insieme nel consumare la cena con un atteggiamento di ordine veramente straordinario, quindi sono anch'io veramente grato di cuore responsabili di questa opera, di questa struttura, i volontari, so bene e immagino bene che tipo di impegno richieda quotidianamente la disponibilità ad affrontare insieme il bisogno di tante persone e sono anche lieto che il sindaco e la città di Brecha dedichino attenzione ad una struttura come questa perché come diceva Adriano una città è fatta di mille, mille, mille espressioni, ma se si va dentro a scavare nel cuore a fondo si vede che l'elemento più importante è l'attenzione alla persona, si può manifestare in mille modi, ma bisogna scoprirla, bisogna trovarla, bisogna che veramente ci sia. Io ho un giro da fare anche in altre zone di Brecha per cui vi lascio, ma ho visto delle cose veramente belle, ho visto delle persone veramente insieme, importanti e quindi grazie della vostra accoglienza e buona per niente.